Svolta digitale per il comune di Mondovì che ha presentato alcune iniziative SMART. In arrivo le app Municipium e MyProteo, la carta di identità elettronica e la nuova pagina Facebook istituzionale. Oggi abbiamo ospitato qui in comune a Mondovì la presentazione delle iniziative SMART. È solo il primo passo di un percorso che l'amministrazione Adriano ha intrapreso fin dal suo insediamento. In modo particolare sono tre le iniziative che ho curato come assessorato. La prima è quella della presentazione dell'app Municipium che ci permetterà di mettere in collegamento il comune con i cittadini di Mondovì e non solo, anche i turisti, tutti coloro i quali sono interessati, attraverso una serie di funzionalità messe a disposizione che sono le più disparate, dalle segnalazioni con fotografia delle eventuali situazioni che non vanno, cosiddette critiche, piuttosto che tutto l'elenco dei ristoranti, degli alberghi, dei bed and breakfast presenti in città o ancora tutta la possibilità di trovare i punti di interesse storici, turistici, attraverso l'utilizzo delle maps interne del proprio advice, del proprio telefonino, del proprio smartphone. In seconda sede abbiamo presentato quella che partirà a fine maggio, vale a dire la carta di identità elettronica. Certo non un'invenzione ma un'impostazione della legge che accogliamo però con molto favore ai quali gli uffici si stanno preparando, anche i cittadini moregalesi potranno quindi ottenere il documento nuovo, innovativo dotato di impronti digitali a partire da fine maggio presso lo sportello unico polivalente del comune stesso. E infine, quello che è forse la cosa più simpatica e informale, vale a dire la pagina istituzionale Facebook Città di Mondovì, dove verranno riportati tutti gli eventi, tutte le iniziative ufficiali del nostro comune e dove le persone, sia i cittadini ma non solo, tutti quanti gli appassionati di Facebook, tutti quanti coloro i quali lo utilizzano, potranno appunto trovare le informazioni più utili relative alla nostra città. Oggi per Mondovì è una giornata importante. Abbiamo dato il via a questa app, a questa applicazione da scaricare sugli smart phones che si chiama MyProteo. È un'applicazione che serve ai cittadini monregalesi a inviarci segnalazioni di eventuali abbandoni ma serve anche a tutti noi monregalesi a ricordare come e quando conferire i rifiuti durante il nostro calendario annuale. Quindi io invito veramente tutti i cittadini a usarla, specialmente i giovani, affinché siano promotori di una maggiore sensibilizzazione di tutta la popolazione su questo tema. Purtroppo c'è ancora gente che non accetta questa raccolta differenziata e quindi veramente è un invito ad aiutarci proprio utilizzando questo strumento smart.